Sì Ok, sì, mi è arrivato qualcosa Christian, Kevin, Malci Che succede? Dove siamo? Andiamo alla barricata, solo che aspettiamo che gli aprono gli altri Sì, ne ho una anch'io a questo giro Se li hai dietro Sì, qui Ti stanno braccando E anche a me E anche a me Ci sono nascosti No, sono qua davanti Vieni verso di me Ci sono nascosti, non li vedo più Non lo vedo Ok Perché non ti spara, Dio cane? Perché non ti spara, Dio cane? Guarda, però ti metto E' di qui, sono i miei due Ok Sono io Merda Oh Sì, è anche saltato per aria Cioè è proprio saltato Dopo Dopo Se sopravvivo poi salvo la clip Ti faccio vedere che è proprio saltato Prenditi Il corpo Non lo so No, l'altro è solo una K Ah, linea K Tienetelo, grazie Tienetelo Io non gioco Io non gioco con armi linea K Mi fanno schifo a livello estetico A livello di prestazione Le ho provate tutte le mitragliatrici del gioco Quindi se non le uso C'è un motivo Troppo lente Troppo pochi danni Ehi Ho trovato il tesoro Sì, vieni Nea Dai, io faccio una radio Fermo Eccoli qua All'uno Proprio qua Adesso Vinchiappriamo Audio Non ho più polli d'idea se c'è altro oggetto Non ho più polli d'idea se c'è altro Non ho più polli d'idea se c'è altro Non ho più polli d'idea se c'è altro è morto un taino no attento perchè ho sentito dei rumori qua non so se erano rumori ambientali non rumori di passi eh disturbatore che andavano verso dove però eh lo vedo eh lo sta scavalcato eh io purtroppo da qua non vedo niente ridammi in altra posizione per favore ok ok ho visto vado 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 l'ho mancato eh ma è uscito dalla finestra ottimo che era quello che era scappato questo c'aveva lo svu mi sparava con la thompson grazie coglione ascoltami facciamoci il coso perchè io ho fatto già aprire la barricata non lo so vabbè dai andiamo al container però che io non so più dov'è sicuro disattiva il disturbatore se si può ah non può essere disattivato le palle eh apriamolo questo giro però spariamo bravo bravo vieni pacco e barricata eh madonna quanta roba tutta buona te le lascio perchè io ho già lo svu vai vai guarda che roba adesso devo fare spazio qua quindi vieni che andiamo al pacco eh vabbè ma è uno solo che c'è che c'è eh vabbè li apriamo tutte vabbè vaffanculo ma che ne so apriamo e basta eccola qua perfetto eh devi preparartelo prima negro no no c'è 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 roba magari avevi sentito semplicemente il colpo di quello col thonso non cazzo ne so io tutto a tuo ma c'è un cerno trio uno l'hai ucciso tu uno l'ho ucciso io è difficile fare uccisioni quando sei in squadra raccontare cazzo cazzo cazzo